Il comunicato stampa di ieri della prefettura, che annunciava che a Sant'Elia, frazione dell'Aquila, nessuna struttura per migranti sarebbe stata aperta, ha fatto gridare alla bufala. Mentre in città già si facevano assemblee raccolte firme, la prefettura ha smentito categoricamente la notizia, notizia per la quale un po' tutti si sono scomodati a partire dalla politica, due parole dalla prefettura per smentire le voci, che ormai da giorni avevano già sollevato un polverone. Il centro migranti, secondo le voci del popolo, avrebbe dovuto sorgere nell'ex albergo Villa delle Rose a Sant'Elia, ma le notizie sono iniziate a rimbalzare, mentre nessuno si è preoccupato di verificare la fondatezza e così, come dicevamo, la gente ha alzato le barricate e anche la politica ha iniziato a scrivere. In realtà, bufala o non bufala, non importa poco, un sopralluogo nella struttura c'è stato circa tre mesi fa, da parte del Movimento Celestiniano, che ad oggi accoglie 137 persone. Il Movimento Celestiniano, in pratica, avrebbe dovuto spostare a Sant'Elia le persone che oggi si trovano in Via Paolucci, dunque non una nuova apertura, solo uno spostamento, in un'ottica di miglioramento delle persone affidate al centro, ma fanno sapere dal centro, subito l'ipotesi fu scartata dopo aver ascoltato la gente, e questo tre mesi fa, ma nessuno si è preoccupato di sapere. Il Movimento Celestiniano, ad oggi lo ricordiamo, ospita 100 persone in Via Roma, 25 in Via Paolucci e 12 in una villetta dietro l'Exompi. Pochi sono i richiedenti asilo, un 60-70% sono qui per motivi umanitari e noi non possiamo lasciarli in strada, dice il Movimento. In un momento storico in cui spesso sono proprio i primi cittadini delle città, a dire di non avere più la forza di ospitare nessuno, facciamo un po' di conti. In provincia dell'Aquila sono ospitati circa 600 richiedenti asilo, con i nuovi avvisi della Prefettura si potrebbe arrivare a 1.200.